ma si è svuotata una spiaggia si sono andati tutti infatti ho parlato con una signora con una signora che stava salendo a casa che c'è una casa qua a proposito poi dobbiamo andare in un posto e che gli ha detto sta signora io ho detto signora se ne va così presto certo allora di mangiare sì perché mio marito vuole fatta la pasta c'è manco che avevo fatto panini oggi non volevo cucinare certo non voleva cucinare ha fatto bene un armare si deve rilassare certo no c'è mio marito è camorriuso la pasta la pasta che fare un panino mangiù macca e quindi signora cosa fa quelli belli panini ma sono imbottiti dice certo ma le aveva imbottiti lei della salumeria ha comprati comprati ora che fa dice ma che ne so dice peccati belli panini facciamo una cosa me li dì a me se io li ritengo nella mia borsa frigo se lei di pomeriggio scende le viene fame io gli le do e sono belli freschi e ce l'abbiamo noi è inutile che lei si porta sto peso di sti panini a casa ce l'abbiamo noi e che dobbiamo fare e se la signora viene io già me ne sono andato la busta non so manco come sono a come sono infatti prosciutto non lo so non mi interessa non potevo indagare ma scusa glieli potevi pagare alla signora cioè signora se noi come noi siamo sempre senza pranzo ma lei mi ha detto dice grazie che me li tiene al fresco dice poi di pomeriggio dice magari faccio uno spuntino quindi se lei se ne vada tranquilla vada a friggere si riposta si scelto proprio frienno si riposta belli panini vediamo cosa c'è vediamo sono tre tre panini sa con la mortadella bella bella no vabbè vediamo questo quello che te lo mangi ma so signora veni ah bello morbidone tieni buon pranzo ce ne andiamo ciao ragazzi noi mangiamo una che viene questa no vabbè ragazzi no vabbè